Enduo, better healthcare through better technology. E per rendere possibile la condivisione di queste misurazioni, abbiamo realizzato una piattaforma IoT che tiene traccia dei parametri biometrici, fisici e nutrizionali in ogni contesto, a casa, al lavoro, in farmacia ed in ospedale. E proprio in relazione al contesto d'uso, le misurazioni vengono acquisite con Enduo Cosi o Enduo Health Up. Enduo Cosi è un gateway semplicissimo da utilizzarsi, dotato di connettività 3G, Bluetooth e porta USB, a cui i pazienti, con estrema semplicità, connettono i propri dispositivi medici. Enduo Health Up è un'app mobile che utilizzano gli operatori sanitari con gli enterprise manager device o i pazienti tramite i propri smartphone. Il punto di forza della nostra piattaforma è proprio la capacità di acquisire misurazioni da oltre 200 dispositivi medici, wearable devices ed app. La nostra piattaforma di servizio è utilizzata già da 3 anni da migliaia di pazienti e da player come Engineering e Daedalus, che sono i system integrator più importanti nell'ambito della sanità italiana, e da aziende come l'Inde, primo fornitore al mondo di gas medicali, e Vry Health, azienda del gruppo MSD, tra le 10 farmaceutiche più importanti del mondo. E tutto questo si è reso possibile grazie al team di Enduo. Massimo Marini, si occupa della ricerca e sviluppo, è ingegnere e ha 30 anni di esperienza nel design e realizzazione di embedded devices. Michelangelo Smerindio, CFO e VP dell'insurance market, ingegnere con 15 anni di esperienza nell'innovation e nel project financing. Claudio Vergini, VP Health Care Market, ha 20 anni di esperienza in vending enterprise nel settore digital. Armando Cascia, capo dello sviluppo software. Andrea Usai, senior software developer. E da me, sono anch'io ingegnere con 20 anni di esperienza in ICT ed engineering con ruoli manageriali. Enduo, we make it happen better. Grazie. 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 Grazie.